Si prospetta una fusione bancaria davvero importante per la Repubblica di San Marino. Nei giorni scorsi infatti due principali istituti di credito, la Cassa di Risparmio e la Banca di San Marino, hanno annunciato di aver affidato alla società internazionale KPMG il mandato di esplorare la convenienza strategica di un'eventuale operazione di integrazione. Nascerebbe così un nuovo polo creditizio che consentirebbe anche di operare nello scenario internazionale, dopo tuttavia la firma del memorandum di intesa tra la Banca Centrale del Titano e Banca Italia. Le due banche contano in totale 21 filiari e circa 250 dipendenti. L'operazione di fusione piace al governo ma meno ai sindacati. Ebbene è un progetto al quale il governo presta la massima attenzione e che viene valutato dal governo positivamente e credo che possa rappresentare veramente una svolta, una svolta positiva per il settore finanziario locale che deve puntare a raggiungere nuovi traguardi e nuove sfide. Noi non è che abbiamo problemi di pregiudizio per l'eventuale unificazione delle due banche, il problema è che abbiamo bisogno di capire perché, abbiamo bisogno di capire quale tipo di ricaduta ha sul piano economico, del piano industriale, del nuovo soggetto che dovrebbe crescere, abbiamo bisogno di capire la ricaduta in termini occupazionali, abbiamo bisogno di vedere la ricaduta in termini economici per il bilancio dello Stato. Se noi avremo tutti questi elementi saremo ben lieti di dare un contributo positivo, se non avremo questi elementi noi dobbiamo fare la nostra parte e vi compriamo la mobilitazione.